Bruno Barbieri l'ho conosciuto quando era molto giovane ed era un poco straordinario. Poi ha avuto varie vicende, quindi non ha più avuto ristoranti perché a Londra ha dovuto chiudere dove era andato. Ora c'è un ristorante a Bologna dove ha messo semplicemente il nome, però secondo me come talento Bruno Barbieri dei quattro è il migliore. Bastianich non è un cuoco, è semplicemente un manager della ristorazione. Quindi tra Cracco, Canavaciola e Barbieri io se dovessi scegliere sceglierei Bruno Barbieri.